Caldelepere, piccole prove, Matteo, tecnico dello spettacolo che sta guardando il da farsi. Prime prove, Caldelepere, 6-7 aprile, il Tulle è una garza che viene montata sul fondo del teatro su cui deve risaltare la foto della prostituta, della donna del culone nudo, perché si parla di culi nudi, di tettone. L'attrice che lavora con me è Marta Mondelli, che deve venire da New York, perché abita a New York, è una ragazza di Bologna, attrice di Bologna, che ha lavorato con me a New York per due mesi con Madame Clicquot in inglese, lei abita là da otto anni, è cittadina americana, ha una sembianza e un tipo di bravura, secondo me adatta a questo spettacolo. Quindi viene da New York, poi doveva fare anche delle cose in Italia per conto suo, voglio dire certo, però viene apposta Marta Mondelli e fa la prostituta racconta delle storie. 6-7 aprile.